Sul fronte del Don fra le camicene, alcuni reparti di militi si recano in rigogna avanzata verso le linee nemiche per costringere la Do a smascherare le sue posizioni. In questa pianura sconfinata lo spazio è l'ostacolo di cui si serve l'avversario per sfuggire all'agganciamento delle truppe dell'asse. A contatto con Hiroshi. L'artiglia rossa tenta di contrastare l'impeto dei nostri. Mascheramento fumogeno per nascondere un decisivo movimento dei nostri. I rossi che non sono riusciti a passare il fiume si arrendono. Il rastrellamento di una stazione ferroviaria, teatro di un'ostra lotta, devastata dagli aerei e dalle nostre artiglierie. I rossi contendono il terreno palmo a palmo. Il teleobiettivo toglie l'attacco e la distruzione di un grosso car armato sovietico. Il carro salta in area.